Lo sport è disciplina, ma la disciplina non deve mai sconfinare nell'abuso. Lo sport è soprattutto divertimento e gioia. Lo sport è rispetto, non permettiamo mai a nessuno di offenderci. Lo sport è crescita. Se non è così, non è sport. Se sei vittima di abusi e violenze, ne devi parlare. Dillo a noi, vai su tiascolto.info Ti ascolto Ti ascolto Ti ascolto Ti ascolto Ti ascolto Ti ascolto